Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento col bianco e rosso Tibi Sport. Ci proiettiamo verso Bari Empoli, gara che segnerà il ritorno del Bari al San Nicola. Non gioca da un mesetto il Bari al San Nicola, ma parleremo anche di calcio mercato con questo caso Memushai, nel senso che sembrava veramente vicinissimo al Bari. Adesso apprendiamo dal presidente del Benevento che Memushai non è sul mercato. Però, al di là di questo, faremo il punto della situazione anche da un punto di vista tattico, perché in settimana è arrivata qualche critica a Fabio Grosso per alcune scelte fatte in occasione della gara contro il Cesena. Ci affidiamo alla competenza di Carlo Praier, tecnico del settore giovanile dell'Andrea. Ciao Carlo. Grazie per l'invito, Enzo, e spero di essere all'altezza. All'altezza. Allora, cominciamo subito. Intanto apriamo le telefonate, anche perché oggi abbiamo mezz'ora di tempo per il Bari. 080-501-9998, ti chiedo se proprio devi muovere un appunto a Grosso, per quello che si è visto a Cesena. Qualcuno ha parlato di scelte sbagliate degli uomini, Anderson messo in quella posizione, Kozak sin dal primo minuto, Marrone ancora al centro della difesa. Questi sono i tre appunti fatti. E poi qualcuno dice, ho letto anche Regalia oggi, voglio dire, su Regalia c'è poco da dubitare, ha detto sì, tanto possesso palla, però considerato che il Bari ha molto possesso palla, di contro tira poche volte in porta. Allora, questi sono tutti i temi, eh? È nota la mia predilezione per il possesso palla, come tematica di gioco. Io dico questo, possesso palla, fine a se stesso, non serve a nessuno, perché non è uno sport come la box, laddove si vince i punti, esercitando un predominio del gioco. Però è anche vero che noi adesso siamo la seconda leva della generazione dei tecnici, quella informatisi del dopo Sacchi, del dominio del gioco e della palla. Chiaramente in questo credo che Fabio Grosso si sia indirizzato nella sua evoluzione. La domanda è, tira troppo poco in porta rispetto a quanto possiede il pallone il Bari? Sicuramente, per quanto possiede sul terreno di gioco il pallone, tira poco, finalizza poco. E le motivazioni possono essere o di tipo gestionale, troppi cambi in avanti, o del fatto che probabilmente bisogna cercare le soluzioni di ingresso in area di rigore. Però io ho sentito le interviste sempre molto misurate, pacate, l'hai rilevato anche tu, di Fabio Grosso, e ho notato che da parte sua ci sia un'idea evolutiva della fase finale offensiva degli ultimi 25, 30 metri dalla manovra. Quando ha detto che vorrei molti uomini nella metà campo avversario e dentro l'area di rigore. Il problema è che certe volte bisogna essere un po' più spregiudicati dal mio punto di vista. Fermati un attimo perché abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Eccoci, ciao. Buonasera, sono il professor Vestres, tutto Enzo. Ciao Ettore, ciao Carlo, ciao. Grazie. Senti, io vorrei fare, Enzo, tre osservazioni brevi. Sì. La prima è questa. Praticamente tutti gli esperti che studiano il Bari, anche sui giornali, dicono che il Bari all'inizio della campagna aveva bisogno di soli tre acquisti. Sì. Un difensore, un centrocampista che sostituisse Brienza e un attaccante. Sì. Allora, la difesa è stata sistemata, secondo me, però rimangono i vuoti del centrocampo e dell'attacco. Ok. Prima domanda. Seconda domanda. Seconda domanda. Anderson, a mio avviso, e i capelli sono uno un doppione dell'altro. E quindi, secondo me, si potrebbe vendere uno dei due perché non possono giocare insieme e si è visto che Anderson Mezzale è un palimento. E poi? Terza e ultima domanda, Enzo, te la sottoposi già diverso tempo fa. Quest'anno c'è il rischio che si vada a fare i punti. E che naturalmente giocherà la classifica a volta. Sì. Allora, a questo punto il Bari, secondo me, con Empoli e Ufrosinone, deve assolutamente vincere per andare perché, a mio avviso, è molto probabile che l'attacco sia a fare i punti. Se è stato molto chiaro, ma io su quest'ultimo aspetto non lo so se si andrà a pari punti o meno, insomma, è un discorso ancora prematuro. Certo è che il Bari, sino a questo momento, negli scontri diretti, ha fatto poco. Diciamo che ha vinto con la Cremonese, perché la Cremonese è da considerare una squadra di vertice, una squadra da playoff, anche se la Cremonese in quel periodo non era una squadra diciamo tra le prime del campionato, però in quel periodo vinse. Poi con le altre attuali squadre che sono lì in alto, il Bari ha raccolto pochissimi punti e quindi, come dici tu, sarà importante far questo. Anderson Sabelli doppioni, Carlo? Senz'altro sì. Diciamo che in occasione di un'intervista radiofonica di questa settimana con il tuo collaboratore Cristian Siciliani, ho fatto rilevare ai radioascoltatori che lui voleva probabilmente non rinunciare alla forza propulsiva di Anderson, ma non rinunciare neanche alla posizione strategica difensiva di Sabelli. Entrambi dovevano creare una catena, quella di destra, molto sovrapponibile, in cui poi arrivare alla definizione del cross sottolinea. L'aveva provato sin da Andrea, la Michiavola di Andrea. Perfetto, io là mi riferisco, perché l'ho vista dal vivo, nel momento in cui ha proposto la difesa a tre e ha proposto la difesa a tre con questo neo accorgimento, in cui tra l'altro, visti i risultati del vecchio modulo iniziale, quello del 4-3-3, dove i terzini si inserivano anche in mezzo al campo. Anderson, nel momento in cui avesse tagliato in mezzo al campo, avrebbe creato spazio e fuga alle incursioni offensive. È proponibile? Nel senso che secondo te Anderson può migliorare molto in quel ruolo diverso da quello d'origine o non ha le caratteristiche per sprigionare tutta la sua potenzialità? No, diciamo che ha tradito le attese, in questo senso non ha quelle caratteristiche. Veniamo invece al calciomercato, dice il nostro amico Ettore, mancherebbero ancora a completare il mercato del Bari un centrocampista e un attaccante, concordi? Credo proprio di sì, da tempo che anche tu batti il tasto e battevi il tasto sulla mancanza di un regista. Il fatto che si proponesse Memushai a me, sinceramente, dall'inizio è piaciuto. Io dico che manca un giocatore di una certa aggressività. Di una certa aggressività, ma che abbia anche idee. E tu mi insegni che avere due albanesi non fosse una cattiva scelta, proprio anche di identità. Si sono complicate, l'ho raccolto anche da te, adesso, le situazioni relative all'acquisizione delle prestazioni di Memushai. E lì sono fortemente dubbioso, perché nel momento in cui perdiamo un acquisto di questa rilevanza, dovremo arraggiarci con quelli che abbiamo e al momento non ci fanno fare un ulteriore salto di qualità. Prendiamo una telefonata, pronto? Pronto, buon pomeriggio. Ciao Enzo. Ciao, ciao Francesco. Francesco, saluto Mr. Praier. Grazie, Riccardo. Al quale volevo opporre una domanda. Sì. Mr. Praier, volevo innanzitutto ricordare a tutti quelli che stanno criticando il nostro allenatore, perché, ovviamente, non vorrei essere blasfemo portando un termine di paragone con Beppe Guardiola, che il primo anno in Inghilterra di Beppe Guardiola fu disastroso. Bravo, Francesco. Completamente disastroso. Adesso invece sta traendo i vantaggi con un gioco spettacolare, spumeggiante e praticamente quasi imbattibile in Inghilterra. Sì. Ora, a proposito di questo, volevo chiederle al Mr. Praier. Non crede che nell'avanzamento di Marrone a centrocampo e di successivo recupero dei terzini che abbiamo, il Bari possa stare nei vantaggi? E lei cosa pensa? Il nostro Mr. farà questo spostamento? Marrone a centrocampo? Sì. Nel suo ruolo naturale, credo. Cosa ne pensa? Sì, allora, grazie Francesco, procediamo con ordine. Ho detto subito bravo, mi sono lanciato in una aggettivazione nei confronti di Francesco, non casuale, perché è dall'inizio dell'anno, che tutte le volte che ho il piacere di intervenire in una tua trasmissione Enzo, che batto il tasto su un concetto didattico. Si ispira Guardiola nelle proposte di gioco, Fabio Grosso, in maniera da non poter essere smentito dico questo, perché io, come tanti allenatori, approfondisco queste tematiche e vi dico, per l'opinione pubblica che ci ascolta, che il rivestimento tattico della squadra del Bari propone e rivisita concetti che sono quelli di Guardiola con interpreti diversi, è ovvio che gli interpreti del Manchester City sono altra cosa, però il Manchester City ha ragione Francesco, ha vissuto un biegno per fare questo. Diamo il tempo a Fabio Grosso, perché il tempo è importante nella vita, diamo il tempo a che Fabio Grosso determini uno sviluppo maggiore, però è anche da dire, per non smentire quello con il quale si è pronunciato all'inizio della nostra trasmissione, che deve trovare anche lui delle soluzioni offensive. In questo tutti noi dovremmo rivolgersi un po' alle tematiche di Zeeman, i famosi tagli sotto rete, oppure anche quella che te la ricordi Enzo, la confusione organizzata, il caos organizzato di fascetti, cioè cercare delle soluzioni per sbrinare il gioco in avanti. Pubblicità. Eccoci insieme col Bianca e Rosso TV Sport tra poco, la conferenza stampa di Salvatore Delia che peraltro aveva qualche problema fisico ma ha recuperato credo. Facciamo così Carlo, sentiamo cosa dice il difensore di fascia sinistra del Bari, sentiamo le sue parole. Siamo pronti perché abbiamo fatto un'ottima settimana, stiamo affrontando comunque una settimana con il piglio giusto, con il sacrificio che comunque ci contraddistingue, quindi siamo pronti per affrontare sabato l'Empoli, anche pur sapendo che comunque è una buonissima squadra, però siamo pronti perché anche noi possiamo dire la nostra. Diciamo che la sosta di Natale mi ha permesso comunque di lavorare al meglio perché comunque venivo da un periodo un po' così, quindi sono riuscito comunque a recuperare del tutto le energie fisiche e mentali, quindi sto bene. Ma io diciamo che non mi accontento mai, sicuramente potevo fare di più perché comunque però di me c'è stato l'infortunio che comunque mi ha permesso di non esserci per due mesi, quindi c'è il rammarico per quello, però alla fine quando sono stato chiamato in causa ho sempre messo l'anima, tra virgolette, però obiettivamente posso sicuramente dare di più di quello che magari si è visto fino adesso. Ma a pensare partita dopo partita, adesso affrontiamo l'Empoli, come ho detto prima è una squadra che comunque è costruita per la Serie A, ha fatto acquisti importanti, quindi però dalla nostra parte possiamo anche dire che noi siamo una buonissima squadra, sicuramente la affronteremo con il piglio giusto anche in vista dell'andata, sappiamo che comunque sono molto bravi nel possesso, quindi bisogna dare maggiore attenzione rispetto a quella fatta a precedenza a Cesena, quindi stiamo preparando la partita al meglio. Ti piace Delia come interprete del ruolo di laterale sinistro? A me personalmente sì, mi piacciono tutti quei giocatori che sanno calciare in corsa, che è una tecnica, è una gestualità tecnica molto difficile, tu sai che io amo i giocatori tecnici, amo la tecnica, per me è la base di tutto nella vita del calciatore, sì preparazione atletica di cui penso di essere consapevole, avendo alle spalle una laurea in scienze motori, ma di là di tutto se non sai giocare a pallone è ben poca cosa. Avete visto sullo sfondo quando parlava Delia che c'era un pallone dei pionieri, più un quadretto e credo anche un paio di scarpette e un gadget messo in vendita dal Bari per celebrare i 110 anni al pari della maglia storica, la maglia che il Bari indosserà per la prima volta peraltro in occasione della gara contro l'Empoli. Ti faccio un riferimento, era la maglia che indossavo io quando ero calciatore del Bari. Ah davvero? Sì sì, strisce longitudinale tipo Ajax, e il pallone invece è il pallone che i nostri genitori è il cuore di mezza quello. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta, intanto vi ricordo per chi ci segue in diretta che alle 20.30 oggi gioca Castellana, la New Matter in casa contro il Trentino, la squadra del Trentino, una delle più forti d'Italia, ore 20.30, Forza Castellana alla ricerca della quarta vittoria in questo campionato. Poi un'altra notizia di oggi è l'arresto del patrone del Foggia Sannella per riciclaggio. Valadiamo come cenno di cronaca, purtroppo cronaca che ancora una volta si mescola alla cronaca sportiva, con la sensazione davvero che il calcio si nutra di danaro di non sempre chiara provenienza. Purtroppo abbiamo detto che un tempo il calcio era l'imprenditore ricco e tutti a spennarlo, va bene? Probabilmente gli imprenditori che hanno altri interessi molto grossi o comunque fanno sempre più fatica a mettere soldi nel calcio, per cui oggi un po' i flussi di danaro sono completamente cambiati, però non è nostro compito controllare quello che accade, ci sono gli organi preposti. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta, c'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo! Ciao! Ciao Enzo, Alfredo! Ciao Alfredo, ciao! Eh Alfredo! Alfredo dalla Pensilvania, abbiamo il nostro amico pizzaiolo dagli Stets, ciao caro! Una domanda veloce veloce, senti! Vai! Vorrei sapere perché Anderson e Sapelli non possono giocare insieme? Io ho visto la partita del Milan domenica, Rodriguez ebbe il doppio cartellino giallo e fu espulso, Calabria scalò dall'altra parte ed entrò a base, qual è il motivo, lo dico anche all'ospite, qual è il motivo che questi due giocatori non possono condividere e giocare insieme? Beh, bellissima domanda, complimenti, un saluto alla Pensilvania. Allora, in una difesa schierata con un accentramento di giocatori centralmente a copertura della porta, la cosiddetta difesa a tre, che altro non è che tatticamente a Coverciano, ripeto per l'ennesima volta, spiegano come un A4 che scivola, è facile trovare degli esterni che abbiano corrispondenza di ruolo, cioè Anderson e Sapelli, due esterni bassi che si pongono longitudinalmente su una catena di gioco, su una corsia di gioco, pronti a sovrapporsi l'uno all'altro, questo in un A4 che gira, che altro non è che la difesa a tre. In una difesa a quattro tipizzata, che deve coprire 60 metri di campo in larghezza, ove gli scivolamenti devono essere di reparto e non possono essere individuali, difficilmente trovano maggiore rispondenza a questo tipo di soluzioni di gioco. Nel momento in cui ho visto ad Andrea riproporre la difesa a tre, concetto anche di Guardiola, nel momento in cui si vuole andare ad attaccare con molti uomini mantenendo la superiorità numerica rispetto a una squadra avversaria offensivamente che gioca con due punte contro tre difensori, ci può stare che ci siano due giocatori di corrispondenza di ruolo in una catena, in una corsia di gioco per sovrapporsi e proporre poi il definitivo cross sotto rete. Un'altra telefonata, pronto? Intanto è rimasta in sospesa una risposta rispetto alla prima domanda, Kozak, qualcuno ha detto perché Kozak, io ho detto che probabilmente Grosso confida nel recupero di questo calciatore e lo fa giocare. Anche per la finalizzazione, il cross poi deve avere un interlocutore finale, più è corpulento. Quindi se hai Sabelli da una parte e te lì dall'altra, bravo, e più è corpulento. E' il centravanti che quattro volete. Esatto, o Anderson che in quel momento non ha subito la sovrapposizione alle spalle di Sabelli, che vada direttamente al cross. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, ciao, sono Gianfranco da Iapigia. Ciao Gianfranco. Ciao, eh. Guarda, si sentiva meglio dalla Pensilvania che non De Iapigia, c'è qualcosa che non va, infatti. Mi senti? Vai Gianfranco. Mi senti? Sì. Niente, volevo soltanto dire una cosa. C'è un problema a Floro Flores, perché la fiducia a Floro Flores non era ancora visto nel camminato, quindi Floro Flores… No, non sento nulla, guarda, la fiducia a Floro Flores non deve tramontare. Ho la fiducia a Floro Flores, quindi uscite allo scoperto, perché è impossibile un giocatore di 34 anni farlo entrare in due minuti, voglio capire, uno che gioca da 20 anni in Serie A, cioè lo metti in due minuti, che cosa si può utilizzare perché… Grazie, Gianfranco sottolinea un tema in effetti, perché Floro Flores negli ultimi incontri è stato utilizzato veramente… Per un minutaggio scarso. È giusto gestire così Floro Flores o un attaccante che comunque ha un passato anche importante e che non è proprio vecchio dovrebbe sentirsi più partecipe del… Allora Enzo, siccome è un fine gestore attualmente dello spogliatore, Fabio Grosso, io me la so, perché non si sentono grossi problemi, a parte quel momento di riluttanza nella sostituzione da parte di Galano, non ci sono stati grossi problemi, o almeno in apparenza non appaiono. Io, visto questo comportamento e il fatto che il Bari è molto affiatato, sembra, nei momenti cruciali, ritengo che Floro Flores comunque lo fa entrare perché serve la gestione dei minuti per dare importanza al giocatore che forse non è stato in un grande periodo fisicamente, dal punto di vista proprio della prestazione fisica, oppure in quel caso al contrario sarebbe sbagliato, perché se mi fai entrare due minuti e ho un passato alle spalle, un pedigree importante, vado solo incontro all'ironia, all'ilarità degli altri. A proposito di attaccanti, è inutile nasconderlo, Bari-Empori è una partita già importante, ma c'è il ritorno di Caputo, ancora una volta il ritorno di Caputo da X, ricordo che Caputo ha segnato due goli in dieci minuti al Bari, se non ricordo male. Attaccante è Caputo, vogliamo spiegarlo, perché Caputo curiosamente non piace a tutti, lo sappiamo, a Bari è successo questo, però poi guardi i numeri e ti rendi conto che è un top player per la B. Innanzitutto in coppia c'era una combinazione di gioco che prevedeva il giusto tocchettino a favore dell'inserimento di Caputo da parte di Donnarumma, e Donnarumma da questi studi l'ho proposto migliaia di volte, affinché il Bari lo prendesse in considerazione e acquisisse le sue prestazioni dall'allora salernitana. Caputo è un rapace dell'area di rigore, è cresciuto in forma embrionale, in modo molto artigianale, è cresciuto nelle giovanili del Noicatto, non ha una scuola calcio alle spalle, per cui qualche volta, inizialmente soprattutto, l'abbiamo criticato dal punto di vista dei gesti tecnici, ma ha sempre avuto un grande fiuto del gol. Oggi che si è perfezionato dal punto di vista tecnico, è un vero rapace della Serie B. Ultima telefonata, pronto? Buonasera, ciao Enzo, a te e all'ospite, sono Dino Damodunio. Ciao, ciao caro. Senti, due domande semplici, voglio capire perché Cross si ostina a far giocare a centrocampo Bascia, che è la rovina del centrocampo barese, che ferma sempre il gioco, non abbiamo un contrattacco veloce, arriva la palla a lui e si è bloccato. E poi la seconda? E poi la seconda domanda, perché Sogliano resta ancora in attesa del centrocampista del Benevento? Mi sembra una telenovela, abbiamo perso due settimane per questo giocatore qua, alla fine si mi è detto che non abbiamo bisogno di venderlo. Grazie, grazie, questa domanda bisognerebbe farla a Sogliano, non posso certo rispondere al posto suo, prova ne che… Soltanto per un'idea tattica, Memushai e Bascia possono contestualmente… Sarebbe una bella coppia, mi sembra di capire. Benissimo, in fase di… Però l'amico contesta anche l'utilizzo… Volevo solo finire questo, in fase di proiezione offensiva l'uno potrebbe coprire l'altro avendo entrambi propensione per la… abbiamo visto un gol di testa di Bascia molto importante la proiezione offensiva e anche capacità di collegamento. Quando il gioco staziona dalle parti del playmaker alla Guardiola, certe volte i difensori si aprono, il centrocampista cuce il gioco, rallenta… Invece la risposta su Bascia? Sulla risposta su Bascia è un fatto individuale, cioè è un piacere da parte di Grosso ad utilizzarlo, cioè si fida del giocatore. Ma tu lo vedi come un rallentatore del gioco del Bari? Il playmaker degli schemi di Guardiola è un rallentatore, è comunque un difensore aggiunto, è comunque un avviatore della proposta della manovra dove deve trovare i tempi per tessere la ragnatela dei passaggi con cui beneficiare attraverso il possesso palla del mantenimento dell'acquisizione della palla. Ricordo che contro l'Empolo è un giocatello che è squalificato, so che però è la parte più importante della tua emissione. Volevo fare un saluto innanzitutto a una bella bambina, Ilaria, che fa parte delle giovanili del Bari, perché oggi tutti noi, lo sappiamo anche ad Andrea, l'anno prossimo saremo obbligati a fare l'under 12 femminile, quindi fa parte della scuola di calcio coordinata da Lello Scianimani, con il nostro grande amico che salutiamo, e l'altra è mia mamma, perché come tutti gli uomini sono mammone anch'io all'italiana, mia madre oggi compie 83 anni, sono particolarmente legato a mamma, come forse tutti gli italiani, e le auguro ogni bene da questi studi. Auguri anche da parte nostra e da tutta la famiglia di Terebari. Grazie a Carlo Praier, dopo la pausa pubblicitaria, a Barbara Cirillo, con le ragazze più amate dei baresi, quelle della Pink Bari, che riprenderanno il campionato nel prossimo fine settimana, e sono Redu, ci ricordiamolo, da quattro vittorie di fila. Un saluto mio personale alle Pink, e un grande saluto al mio ex calciatore, nonché validissimo attuale allenatore, Roberto D'Armiglio. A tra poco.